Musica Concluso il pellegrinaggio diocesano dei Cresimati a Roma, quattro ragazzi hanno salutato il Papa, tre giornate intense di crescita, il Vescovo ha ringraziato tutti i partecipanti. Il Papa all'udienza generale ha esortato a non spaventarsi davanti a chi ci dice di tacere o ci calunnia, gli ammalati, ha sottolineato poi, sono dei privilegiati per la Chiesa, non sono da scartare. Toccante testimonianza di Arturo Mariani, calciatore della Nazionale Italiana Mutilati CSI, l'atleta ha spronato i Cresimati della diocesi ad andare oltre le difficoltà, i sogni impossibili a detto diventano possibili. Buone notizie per Santo Stefano Daveto, dopo tanti anni di abbandono due imprenditori sono interessati all'acquisto dell'ex colonia Piaggio, la trattativa in corso spiega il sindaco. Chiavari, i carotaggi in corso nel Rupinaro hanno un valore anche archeologico, l'analisi potrà svelare le varie fasi stratigrafiche, occhi puntati su Corso Millo dove sorgeva l'antica necropoli. Bandiera verde, bandiera blu e spiga verde, Lavagna è l'unico comune ligure ad avere tutti e tre i vessilli, a parlare nel sindaco che oggi ha fatto il punto sull'estate, sono aumentate le presenze nel 2019. Ai nastri di partenza un nuovo anno accademico per l'università delle tre età di Lavagna, tante le materie proposte, le uscite didattiche a Palazzo Ducale e al centro storico di Genova. Buonasera a tutti, bentornati al nostro telegiornale. Si è concluso il pellegrinaggio diocesano dei Cresimati a Roma. La partecipazione all'udienza generale di questa mattina, presieduta dal Papa, è stato il momento culminante di tre giornate vissute con intensità dai ragazzi. Al termine dell'udienza il Santo Padre ha rivolto un saluto ai pellegrini. La sintesi nel servizio. È il momento culminante di tre giornate intense e ricche di avvenimenti. Il Papa saluta i pellegrini chiavaresi, accompagnati dal vescovo Alberto Tanasini e da un gruppo di sacerdoti e catechisti. Quattro ragazzi realizzano un desiderio ulteriore, salutare personalmente il Papa. Un'opportunità che la sorta segna Giulia Marini, della parrocchia di San Giovanni Battista a Chiavari, Davide Crapanzano, della parrocchia di Cicagna, Mirco Pellestri di San Salvatore di Cogorno ed Eleonora Schettino di San Bartolomeo della Ginestra a Sestri Levante. È stato molto bello, soprattutto quando è venuto davanti a noi e ci ha stretto le mani. È stato un momento di grande felicità per tutti noi ragazzi. Mi ha fatto veramente piacere vedere il Papa che poi fai conto che è la prima volta che vengo qui a Roma. Poi stringergli la mano e anche parlarsi a due è stata veramente una sentazione unica. Ciascuno, tornato alla propria quotidianità, porterà con sé un ricordo di quanto vissuto, con la speranza che possa germogliare e portare frutto. Sono contento che anche quest'anno sono stati tre giorni belli e ricchi. Belli mi sembra anche di avere la conferma dei ragazzi che so che hanno detto che hanno avuto tre giorni, che hanno vissuto volentieri. Li ringrazio di essere venuti perché questi giorni sono belli perché ci sono loro. Io approfitto per ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per questi tre giorni. Cominciare dai preti, ringrazio i catechisti, gli accompagnatori. Vorrei aggiungere anche il mio ringraziamento ai genitori che hanno mandato i ragazzi e vorrei dire grazie anche per la fiducia che avete avuto nell'affidarci i vostri ragazzi. Io approfitto di questo momento in cui ci separiamo per salutare i ragazzi e per augurargli buon ritorno e spero che possiamo avere l'occasione di vederci ancora. Andiamo dunque ai contenuti dell'udienza del Papa di questa mattina. Francesco ha esortato i fedeli a non spaventarsi davanti a chi ci comanda di tacere, ci calugna e addirittura attenta alla nostra vita. Sentiamo. È la missione di Pietro, principale testimone del risorto, al centro della catechesi di Papa Francesco. La sua azione risanatrice suscita l'odio e l'invidia dei sadducei che mettono in prigione gli apostoli, poi liberati miracolosamente, quindi proibiscono loro di insegnare. Prendendo spunto da questo evento sull'esempio di Pietro, il Papa evidenzia cosa si è chiamato a dire un cristiano. Io obbedisco a Dio prima che gli uomini. È la grande risposta cristiana. Questo significa sfruttare Dio senza riserve, senza rivii, senza calcoli. Aderire a Dio per diventare capaci di alleanza con Lui e con chi incontriamo sul nostro cammino. Chiediamo anche noi allo Spirito Santo la forza di non spaventarci davanti a chi comanda di tacere, ci calunnia e addirittura attenta alla nostra vita. Non spaventarci. Chiediamogli di riforzarci interiormente per essere certi della presenza amorevole e consolatrice del Signore al nostro fianco. Centrale nella catechesi, anche l'invita a prendersi cura degli ammalati, nelle loro piaghe, nelle malattie che sono impedimenti per andare avanti nella vita, ricorda il Papa, c'è sempre la presenza di Gesù. Dio manifesta la sua prossimità e fa delle piaghe dei suoi figli, diciamolo un po' in difficile, il luogo teologico della sua tenerezza. Nelle piaghe degli ammalati, nelle malattie che sono impedimenti per andare avanti nella vita, c'è sempre la presenza di Gesù, la piaga di Gesù. C'è Gesù che chiama ognuno di noi a guadirli, a sostenerli, a guarirli. Tra i diversi incontri che hanno caratterizzato il pellegrinaggio dei Cresimati, toccante è stata la testimonianza di Arturo Mariani, giovane calciatore della Nazionale Italiana Mutilati del CSI. Mariani ha invitato i ragazzi ad andare oltre le difficoltà. Lo ascoltiamo. Arturo, un campione nello sport, ma soprattutto nella vita. Sì, diciamo che lo sport è una metafora della vita, quindi le difficoltà che riusciamo a incontrare e renderle possibilità, la riesce a capire il senso vero dello sport, della vita. Trovarsi di fronte al dolore non è mai facile, ma se riusciamo ad accoglierlo cambia tutto, cambia la prospettiva che abbiamo e riusciamo a ottenere qualsiasi cosa, i nostri sogni impossibili in realtà diventano possibili. Hai citato più volte la parola scelta. Sì, la scelta è tutto. Ci troviamo ogni giorno a fare delle scelte. I miei genitori sono stati, tra virgolette, costretti a fare una scelta, a dire sì alla mia vita e di conseguenza mi hanno insegnato anche a me a fare delle scelte. Scegliere di dire sì significa scegliere di vivere una vita al pieno delle proprie potenzialità e sto cercando di farlo, ma non si smette mai di imparare e di dire sì. Hai detto tanto convinto che niente è impossibile, che ci hai convinto tutti. No, lo posso dire perché nella quotidianità incontro persone, ma capita anche a me di soffermarsi sempre su quello che ci manca, sempre su cose banali. In realtà non ci rendiamo conto di quante possibilità abbiamo, di quanta grandezza abbiamo dentro di noi. Io lo dico sempre ai ragazzi scherzando, il romano, ma se io senza una gamba ce l'ho fatta a giocare al pallone, perché tu non ce la puoi fare e quindi questo è il messaggio. Ce la possiamo fare tutti, nonostante le difficoltà. La persona che abbiamo davanti è il nostro riflesso? Esattamente, la persona che abbiamo davanti è il nostro riflesso, quindi se noi vediamo in noi del positivo, le persone vedranno del positivo. Se noi siamo negativi, le persone vedranno del negativo. Al pellegrinaggio dei Cresimati a Roma sarà interamente dedicata la puntata di Noi Chiesa in onda venerdì alle ore 21.10 sul canale 15 di Telepaci. Ora chiudiamo la pagina dedicata al pellegrinaggio, veniamo sul nostro territorio. Buone notizie per Santo Stefano Daveto. Dopo tanti anni di abbandono, due imprenditori sono interessati all'acquisto dell'ex colonia Piaggio. La trattativa è in corso, spiega il sindaco, che si dice fiducioso sulla conclusione della vicenda. I dettagli nel servizio. Nell'udienza del 3 luglio scorso, il Tribunale fallimentare di Genova non ha messo all'asta l'ex colonia Piaggio di Santo Stefano Daveto. La perizia infatti stima 5 milioni di euro, il valore della storica struttura. Un costo sovrastimato visti i tempi che corrono e l'investimento che sarà necessario per la ristrutturazione. A raccontarlo il sindaco Giuseppe Tassi, che svela la presenza di due imprenditori intenzionati ad acquisire l'immobile dopo anni di abbandono. In questo senso, l'udienza di luglio è fondamentale. Permette infatti l'acquisto ad un costo inferiore, cosa che potrebbe andare bene ai creditori che hanno in mano l'ex colonia. Una scelta di buon senso, dunque. La stessa udienza fissa intorno al prossimo 20 settembre il termine per giungere ad un accordo, spiega ancora Tassi. Se l'interesse di uno dei due imprenditori coinvolti dovesse andare in porto, potrebbe chiudersi l'esperienza della curatela fallimentare, con la possibilità di dialogare direttamente con gli intermediari dei creditori. Siamo fiduciosi perché la trattativa è già in corso, spiega il primo cittadino di Santo Stefano, che per ovvie ragioni non vuole svelare i nomi dei possibili acquirenti. Il Comune spera che l'ex colonia possa diventare un luogo attrattivo per i turisti, anche d'inverno, con un'offerta che preveda ad esempio piscine, bagni termali e spa, così da uviare ad un'eventuale assenza di neve sulle vette. Prosegue Tassi. Noi come amministrazione possiamo agevolare l'iter, per il resto i nostri sono solo consigli. Diciamo no tuttavia a mini appartamenti o a grandi residence di cui il nostro territorio non ha bisogno. Questo progetto garantirebbe 30-40 posti di lavoro sicuramente alla popolazione di Santo Stefano e quindi avremo persone che rimangono in zona, che presidono il territorio e che quindi vivono veramente il paese, vivono la vallata. Infine sta per andare in porto il progetto di rifacimento del campo sportivo per renderlo idoneo agli allenamenti delle squadre di Serie A e B. Il progetto c'è già e i lavori potrebbero partire in primavera. Un piano da un milione e mezzo di euro di investimento, la maggior parte verrà messa dalla Virtus Entella. Un operaio di 21 anni di lavagna è stato arrestato ieri sera dai carabinieri di Sestre Levante per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso in una piazza del centro in possesso di 31 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. La droga e lo strumento sono stati sequestrati questa mattina al processo con rito direttissimo. Veniamo a Chiavari. Intanto oggi è arrivata la replica del consigliere Giovanni Giardini dopo che il sindaco ha deciso di escluderlo dalla maggioranza. All'origine della spaccatura una frase pronunciata da Giardini nel corso del Consiglio Comunale dedicato all'area Exitalgas e ritenuta offensiva dal primo cittadino. Non è mai stato il mio sogno di bambino confrontarmi con uno che non si vuole confrontare, dice Giardini nella nota, e dire normative precise a uno che crede che le regole a volte siano solo optional. Il consigliere dice poi di non riferirsi a Di Capua, ma alla sua ombra. Secondo Giardini il suo incarico era virtuale e i fili erano tenuti da altri. Il consigliere si scaglia poi contro le gravi espressioni usate contro di lui su Facebook dal gruppo Avanti Chiavari e si riserva a sua volta di agire cautelativamente in via giudiziaria per tutelarsi oltre che ad affrontare il tema nel prossimo Consiglio Comunale. E ora parliamo dei carotaggi che sono in corso lungo il letto del Rupinaro in questi giorni a Chiavari e che hanno un valore anche dal punto di vista archeologico. La terra estratta infatti sarà analizzata in un secondo momento nel cappannone comunale di Caperana e potrebbe svelare le fasi stratigrafiche e storiche di questa parte di città, occhi puntati sul Corso Millo dove sorgeva l'antica necropoli. Sentiamo. Perché i sondaggi e i carotaggi possono interessare anche l'archeologia? Sono fondamentali intanto perché lavoriamo sotto il controllo della dottoressa Nadia Campana che è la funzionaria di questo territorio e con lei ci coordiniamo per verificare questi sondaggi che daranno dei dati diagnostici, tecnicamente si dice pedologici, sulla formazione dei suoli che hanno creato prima i suoli dove è costodita la necropoli di Chiavari e successivamente insieme all'Entella hanno creato la piattaforma alluvionale dove poi c'è stata l'antropizzazione della città di Chiavari. Quali sono i tratti del Rupinaro che secondo voi potrebbero essere più interessanti? Beh, quelli che vengono sondati in questa prima occasione sono tra i più interessanti perché siamo all'altezza di Corso Millo. Ci sarà la possibilità di verificare come il lavoro, un lavoro importante, quello del fiume Rupinaro che ha portato i detriti dal suo bacino imbrifero perciò dal comune di Levi a scendere fin verso Chiavari ha creato le condizioni per esempio per la fase di abbandono e di interro della necropoli. Come farete le visioni della terra che verrà estratta dai sondaggi? Questi primi sondaggi verranno esaminati visivamente, documentati fotograficamente, posizionati geolocalizzandoli sui luoghi di raccolta di queste carote e verificare le diverse stratigrafie e permettere la ricostruzione di tutte le fasi e le dinamiche del torrente Rupinaro. Dato che non c'è un precedente possiamo dire che state facendo la storia di questo tratto? Senza dubbio. Dopo questi primi micro sondaggi ci saranno dei sondaggi più profondi, decisamente più profondi e vedremo proprio le dinamiche più antiche, più lontani dall'antropizzazione di Chiavari che è un fenomeno rispetto a queste dinamiche così lontane del tempo assolutamente recenti. Nel recente Consiglio Comunale di Cogorno il Vice Sindaco Enrico Sommariva ha elencato le linee programmatiche che saranno portate in votazione a fine settembre. Tra i temi all'ordine del giorno si è parlato della rotatoria nella zona del Basco. La Giunta ha ribadito la volontà di volerla realizzare. Il progetto è distinto in più fasi. La prima, già conclusa, ha riguardato il rilievo dell'area, la progettazione di massima della rotatoria e il tracciamento sul campo dei confini dell'anello centrale. La seconda fase in via di sviluppo consiste nell'approfondimento dei percorsi, il corretto disciplinamento e lo smaltimento delle acque meteoriche. Alla fine saranno individuati nuovi percorsi pedonali in continuità con quelli esistenti. A settembre, dunque, ha concluso la sommariva, è previsto l'arrivo del progetto definitivo della rotonda e in base all'aiuto offerto dal Comune alla città metropolitana l'attuale aiuola sarà demolita e verrà avviata la sperimentazione con i New Jersey. Il nuovo capolinea dei bus a Torriglia, il deposito, è stato intitolato questa mattina Sergio Malacalza, autista dell'ATP scomparso 20 anni fa ma ancora vivo nel ricordo degli abitanti del posto. Per la cerimonia di intitolazione, l'azienda ha organizzato un inedito servizio svolto con il nuovo bus scoperto. Il mezzo è partito da Sestri Levante e ha raggiunto Torriglia dopo aver attraversato Tiguglio, Fontana Buona e parte della Val Bisagno. All'inaugurazione, oltre ai rappresentanti delle istituzioni, c'erano gli amici e i familiari di Malacalza. Mio padre, che è scomparso nel 1999 a 61 anni, ha detto la figlia Roberta, credeva in quello che faceva, sentiva la responsabilità di un ruolo che in paesi piccoli e invallate tanto complesse va oltre il mettersi al volante di una corriera. Fare l'autista in queste zone significa soprattutto volere bene al proprio paese, a concluso e alla propria terra. Il nipote di Malacalza, Simone Biscussi, ha scoperto la targa. Adesso andiamo a Lavagna, che è l'unico comune ligure a poter vantare tre bandiere, segno di un territorio accessibile a portata di tutti. I vessilli premiano la qualità del mare, l'ambiente e le spiagge. Ne ha parlato il sindaco questa mattina in conferenza stampa. Sentiamo. Bandiera verde, bandiera blu, spiga verde. Sono i tre vessilli che il comune di Lavagna può vantare di sventolare quale riconoscimento ricevuto per la vivibilità del suo territorio. A parlarne oggi il sindaco, che si è detto orgoglioso di essere l'unico comune in Liguria ad avere tutte e tre le bandiere, il secondo nel nord Italia insieme a Caorle. Particolare la bandiera verde, conferita a quelle località balneari con caratteristiche a misura di bambino, attraverso un'indagine condotta dai pediatri. Come dire che le spiagge di Cavi e Lavagna sono consigliate per i bambini. Valutano tutta una serie di parametri e danno degli punteggi secondo i quali i bambini hanno una loro naturale familiarità e condivisione con tutti gli aspetti del territorio. Attenzione che parlare di bambini vuol dire parlare anche delle famiglie perché dietro a ogni bambino c'è una famiglia per cui i parametri assunti da tutti i pediatri considerano proprio tutti questi aspetti e quindi è una visione a 360 gradi, un monitoraggio a 360 gradi di tutti i servizi che il comune di Lavagna può offrire. E mentre la bandiera blu per la qualità del mare sventola a Lavagna da 27 anni la spiga verde è una conquista degli ultimi quattro e riguarda lo sviluppo ambientale e dei prodotti a chilometro zero. Questa mattina infine il sindaco ha fatto anche il punto sull'estate 2019 che ha fatto segnare sino ad oggi un incremento della tassa di soggiorno. Vuol dire che dal punto di vista delle introiti e quindi delle presenze sul territorio c'è stato un incremento rispetto alla stagione 2018 e non possiamo che essere assolutamente contenti di questa situazione. Situazione che è in corso di monitoraggio perché la tassa di soggiorno è monitorata ovviamente fino al scorso mese di luglio. Rimaniamo a Lavagna perché da lunedì prossimo sarà attiva la segreteria per tutti coloro che si vorranno iscrivere all'anno accademico 2019-2020 dell'Uni3. Ricco il calendario di corsi e di iniziative inserite nel programma che si ripropone agli associati e non per il settimo anno consecutivo. Le interviste. L'Università delle Tre Età di Lavagna Cogorno è pronta all'apertura di un nuovo anno culturale. Le lezioni offerte a tutta la cittadinanza dai 18 anni in poi propone un'ampia gamma di corsi, argomenti, materie, conferenze e laboratori. L'impronta che vogliamo dare è la continuazione e quindi il mantenimento di ciò che è stato fatto. Quest'anno è il settimo anno e ci presentiamo ai nostri iscritti e non solo alla cittadinanza con la semplicità ma con la forza e l'autenticità dell'unione, dell'armonia. La segreteria sarà operativa dal lunedì 2 settembre con orario il lunedì dalle 16 alle 18.30, martedì 10.12 sino al 29 ottobre. Per chi sarà tempestivo nell'iscrizione ci saranno maggiori possibilità di scelta dei corsi da seguire. Creiamo una vera e propria sessione di scuole quindi è chiaro che per quelli che sono i corsi un pochino più attivi chiaramente ci sono i numeri anche chiusi e i posti sono quelli che sono per cui non dico che è un invito a venire eccetera ma è chiaro che se si arriva alle prime battute per iscriversi è meglio rispetto magari al finale di fine ottobre. Le lezioni inizieranno lunedì 4 novembre secondo il calendario prestabilito. Tra le materie proposte un ruolo importante è rappresentato dai corsi artistici. L'arte dà un'opportunità di aggregazione, di anche soddisfazione in quello che si fa perché creare con le proprie mani e con il proprio impegno e seguendo anche delle regole dà una soddisfazione enorme. Nel programma dell'anno accademico sono inserite anche tre visite guidate aperte non solo ai soci Unitre a Palazzo Ducale, al Museo Sant'Agostino e alla Consorteria dei Dori a Genova. Prima di ogni visita c'è una lezione tenuta da me di approfondimento sul periodo storico, sugli artisti, su tutto quello che poi andremo a vedere e queste lezioni sono aperte a tutti. A coronamento del ricco programma anche concerti musicali aperti al pubblico nell'ottica di rendere questa realtà sempre più solida e solidale. Approfondimento culturale e all'offerta culturale, che è la base di Unitre, ma soprattutto l'aggregazione. Il Santuario di Velva a Castiglione Chiavarese si appresta ad accogliere i fedeli per i festeggiamenti in onore di Nostra Signora della Guardia. Stasera alle 20.30 la processione notturna au flambeau delle parrocchie dei comuni di Castiglione, San Pietrovara, Tavarone e Torza. Al termine del pellegrinaggio la messa al Santuario e a seguire il concerto di chitarra acustica con Francesco Tagliente. Domani, giorno della festa, la messa delle ore 11 sarà concelebrata dal Vescovo di Chiavari e dal Vescovo di La Spezia. Alle 17 il Vespro e la processione presiedute da Don Gianluca Trovato. Anche nella parrocchia di Pieve di Zignago, in provincia di La Spezia, domani si celebra la Madonna della Guardia. Alle 21 la messa presieduta da Don Simone Gersi della diocesi di Savona Noli. Il CSI a sostegno dei bimbi ucraini ospitati nel Tiguglio. Nella palestra del palazzetto di Carasco, in gestione al Centro Sportivo Italiano, si è svolto un torneo di mini volley per i più piccoli e a seguire una partita di football ucraina contro Italia. Ad arbitrare il presidente dell'Associazione Baia delle Favole, Bruno Canepa. In campo il gruppo dei ragazzi ucraini e le famiglie del territorio che li hanno accolti nelle loro case, oltre a tanti simpatizzanti. Il presidente del CSI, Cristiano Simonetti, ha premiato i ragazzi con dei portachiavi e del materiale scolastico offerto dal Comitato di Chiavari. La divertente serata di sport e amicizia si è chiusa con un buffet offerto dalle famiglie italiane. E ora parliamo del modellino di una goletta realizzata dall'artista Giuseppe De Gasperi che farà bella mostra di sé nella biblioteca comunale Italo Bertoni nella sede di Villa Nido al parco di Villa Durazzo. Siamo a Santa Margherita Ligure. L'opera sarà donata sabato prossimo da Angelica Schiaffino a nome della sua famiglia nel corso di una piccola cerimonia che avrà inizio alle ore 11. Il modellino è stato realizzato in memoria di Giorgio De Gasperi, fratello di Giuseppe, morto prematuramente in un incidente automobilistico. E ora veniamo agli appuntamenti della giornata di domani. Sfogliamo insieme l'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per giovedì 29 agosto. Prende il via a Santa Margherita Ligure la terza edizione del Bioetica Festival 2019. Seminari, dibattiti e tavole rotonde si terranno a partire dalle 9 a Villa Durazzo. Alle 21 l'ultimo incontro in Piazza Caprera. Il tema della due giorni è il futuro uomo ambiente animali. Apre la 35esima Expo Fontana Buona di Calvari. Si potranno visitare gli stand già a partire dalle 15. L'inaugurazione ufficiale è in programma alle 18. Seguirà il taglio del nastro e un brindisi. Dalle 16.30 alla ludoteca nel Parco delle Casette Rosse di Sestri Levante si terrà l'iniziativa Grande Museo delle Piccole Meraviglie. Un percorso di esplorazione per aiutare i bambini a sviluppare la creatività partendo da oggetti considerati inutili. Alle 18 a Portofino, ultima serata con l'appuntamento fisso dell'estate. Sarà la volta del Romantic Piano Solo con Domenico Greco. Alle 21 a Cerretta di Carro in Val di Vara, concerto di musica classica dal titolo Suggestioni Senza Tempo. In scena il trio italiano, composto da Endrio Luti alla Fisarmonica, Cristina Trimarco al Fagotto e Thomas Luti al Sassofono. Mini Olimpiadi Rio de Genestra alle 21 nel Parco di Via Tino Paggi a Sestri Levante. È la prima serata della manifestazione promossa dalla Parrocchia della Ginestra nell'ambito della festa di San Bartolomeo. Nuovo appuntamento con notti tra le note a Leivi. Alle 21.15 sul Sagrato della Chiesa di San Rufino, il gruppo dei Trallallero proporrà Voci e Suoni di Liguria, ad esibirsi Laura Parodi con Julio Fortunato alla Fisarmonica e Fabio Rinaudo alla Cornamusa. E infine alle 21.15 sul piazzale della parrocchia di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure, il gruppo artistico teatrale di Moneglia porterà in scena la commedia Il visitatore, diretta da Maria Grazia Rebuzzi. Concludiamo con una notizia di sport. Una regata velica per under 15 sarà ospitata domenica dalle 11 nello specchio acqueo davanti alla calata Durand della Pen a Rapallo. Si tratta di una gara riservata a ragazzi e ragazze, nati negli anni dal 2004 al 2010, che utilizzeranno scafi della classe Optimist. L'iniziativa è organizzata dalla Lega Navale Rapallese con la collaborazione di Winner Volley, del Comune, della Federazione Italiana Vela e del Panathlon Club. E' il primo appuntamento di una serie di eventi del 14esimo convegno sulle tematiche sportive organizzate ogni anno proprio dalla Winner Volley. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Continuate a seguirci sul sito teleradiopacce.com e sul canale All News 187. Ci ritroviamo domattina con la rassegna stampa alle 7.30. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di essere